La lista Vivo Pordenone che rappresento come capogruppo, diamo anche noi il sostegno alla candidatura del consigliere Visco Bernardi e lo diamo convintamente perché pensiamo che nella figura di Visco Bernardi riconosciamo una persona che può garantire tranquillamente tutto il consiglio. Io penso che il ruolo di un presidente non sia quello di appartenere a una lista o a un'altra, ma di svolgere compiutamente il proprio compito. Pertanto nella ricerca della persona, avrebbe dovuto ricoprire questo ruolo, è stato fatto anche uno sforzo nel cercare di trovare quella persona che in qualche modo possa garantire tutti. Ecco, con questo spirito che noi diamo il nostro convinto voto al consigliere Visco Bernardi siamo anche convinti che il suo modo di operare per quello che è dimostrato nel passato e che per quello che saprà certamente dimostrare nel futuro sarà una garanzia per tutto il Consiglio Comunale. Grazie. Grazie a il consigliere Visco. Grazie. .